andiamo cazzo godo godo e guarda lì guarda lì hashtag zenith merda sono una squadra di merda di merda d'ora in poi un'altra squadra che inizierò ad odiare lo zenith a roma ragazzi dobbiamo fargliene 6 6 a 0 voglio 7 a 1 anzi madonna ma anche sto arbitro di merda madonna ma che palle io che non voglio mai parlare di arbitri ultimamente mi fate parlare di arbitri godo un 1 a 1 che vale quasi come una vittoria che era in live prima della partita ho detto l'importante oggi è non perdere già quando sono stati sorteggiati i gironi ho messo nel mirino questa partita giocare in russia non è facile per il clima per i tifosi che ci sono in italia invece non ci saranno quindi siamo anche tra virgolette penalizzati anche da questo e poi perché una squadra di merda che non ti fa giocare sti qua non giocano a calcio perché sti qua giocano a calcio ragazzi c'è una squadra a 0 punti cosa ha fatto poi hanno avuto quasi più occasioni di noi perché poi anche su di noi c'è da dire delle cose però non hanno giocato a calcio loro ci aspettavano e cercavano il giro in contropiede c'è loro per niente il gol che hanno fatto è un'altra hanno fatto tre azioni tre azioni sono andate in porta quindi in difesa noi balliamo in questo momento e poi l'allenatore sto deficiente guarda cosa ha fatto i cambi allo zenith c'è loro ha fatto due cambi al 91esimo quando si è trovato con le pezze al culo 1 a 1 io ci credevo anche di ribaltarla totalmente ma che arbitro totalmente pro zenith cioè ma una cosa vergogno ha dato dei falli ne ha dato uno di akpa pro nel secondo tempo ma di un ridicolo incredibile e ho detto sta a vedere che dava quel rigore là sempre per era che se c'era kifi lo dava quel rigore non so se avete presente per era nel secondo tempo che da dietro un po' come è successo a belotti però stavolta proprio non l'hanno neanche sfiorato però vedendo un po' l'andazzo comunque ragazzi partita brutta possiamo dire perché noi abbiamo ottenuto sempre io voglio vedere le statistiche possesso palla solo 52% sì però noi l'abbiamo voglio vedere vorrei vedere la hit map della superiorità territoriale perché noi abbiamo sempre andato la palla a noi loro una cosa che hanno saputo fare anche dei meriti nostri si sono difesi bene in effetti certo che se noi abbiamo ancora ragazzi fares cioè io dico ma oggi io voglio vedere chi ha segnato caicedo assist assist di acerbi acerbi che ultimamente devo dire che in difesa io quando parlo di acerbi ragazzi premetto sempre che è il giocatore che non si discute però oggi abbiamo preso un gol ridicolo cioè vi rendete conto cross sto qui che è il capitano mi pare ci dà di spalla cioè acerbi se lo perde lui ci dà di spalla neanche di testa poi hanno fatto il triangolo di testa palla a erokin tra l'altro solo in piena area di rigore cioè ripeto loro hanno fatto tre azioni in croce e tre tiri comunque però poi alla fine hanno segnato su fuorigioco meno male che a palla persa mi pare da milinkovic se non vado errato milinkovic però ha fatto un partitone tra po' fa quel tiro sinistro al volo che faceva venire giù lo stadio incredibile gli mancava proprio il gol per coronare veramente una prestazione di livello perché milinkovic come al solito come a torino si è caricato la laci sulle spalle nonostante l'assenza poi ragazzi sempre io non faccio più questa premessa perché per me le assenze non sono un allibi anzi stiamo dimostrando di essere una grande squadra anche con le assenze perché anche oggi ragazzi se noi andiamo a vedere volevo vedere quanti assenti anche lo zenith ah vabbè lo zenith aveva 9 8 assenti noi avevamo 11 no che cazzo dico no loro avevano 4 assenti noi ne avevamo 11 cioè ragazzi con 11 ragazzi fuori con una panchina fatta da primavera voglio prendere un punto che oggi se perdevi si metteva male per il girone santo caicedo murici oggi ha fatto una buona partita però ragazzi sto murici non può giocare concorrere a mio parere perché uno io ho visto oggi murici andare al posto di faressa a crossare due volte in area non c'era nessuno quindi murici a sto punto io poi quando rientrere immobile proverei in coppa con immobile perché l'immobile si butta dentro va attacca la profondità murici viene incontro è uno che gli piace svariare già lo sapevo ve l'ho detto quest'estate che non è una punta classica no anche se alto 1 94 non vuol dire l'altezza che è un pavoletti tanto per dire ma è uno che svaria molto ha fatto una buona partita però devo dire che non è ancora al meglio sicuramente infatti di incisività quando è entrato caicedo in pochi minuti ha fatto due tiri è un gol un gol tra l'altro molto bello perché attacca lo spazio lasciato libero da la difesa russa che giocavano con un 5 4 1 quindi un modulo totalmente difensivo un atteggiamento difensivo e poi dico una cosa perché ho scritto così cioè ma l'avete visto l'atteggiamento ai giocatori dello zenith cioè ziuba l'aveva preso in culo era era per terra così che faceva ma c'è ma ragazzi ma che ha preso una ginocchiata da ut cioè ma ridicoli li toccavi si butta madonna ma io dico va bene perdere tempo lo fanno tutti è perché quando sei in vantaggio sei più scarso perdi tempo e lanci via la palla ma si qua veramente non giocano a calcio e sono ridicoli chi è sto allenatore di merda che fai i cambi al novano voglio vedere chi è allenatore se ma si ma ma che va a cagare va si che tra l'altro mi ha detto che hanno fatto che ha fatto gol a reina se ma era un ex giocatore vabbè poi come detto citato reina 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 e reina ragazzi ma vedete anche come interloquisce con gli altri era lì al 90 diceva calma ragazzi perché esperienza cioè in queste partite uno come reina fa tanto ma non è fatto di parate perché parate oggi non ne ha fatte ma mi fa dopo di animo da carica alla squadra poi che altro dire se andiamo a vedere un po i singoli bene con reina mi è piaciuto anche lui si è caricato la la sulle spalle ci ha provato bene per era quando è entrato e questo io l'ho detto anche dopo nel post partito rino lazio ci toglie delle ci fa togliere delle soddisfazioni segnatelo per era è veramente forte bene a capo a pro è stato spostato anche da terzino e patrick utte a cerbi a parte quell'errore lì però mi fa l'assist quindi va benissimo così il centrocampo parolo io dico però in zaghi cataldi ma non ti piace proprio io lo proverei sto ragazzo dalle un po di fiducia poi entri poi magari non fai neanche benissimo come stasera però se non giochi mai io lo proverei vi dico la verità cataldi ogni tanto al posto di parola anche se poi io quando parlo di parolo mi sciacquo sempre la bocca come detto benissimo milico ci murici in crescita maruzic comunque ha tenuto senza offendere ma qualche cross l'ha messo l'ha notato dolente fare se in questo momento va sostenuto perché lo vedo che non è tranquillo farese non è lucido ha paura di fare la giocata però lui adesso non puoi dire non è in forma come murici farese già un mese che gioca titolare è sempre peggio ha proprio paura di fare la giocata come detto sbaglia degli appoggi facile poi farese per cosa l'abbiamo preso per fare i cross dalla tre quarti che sono prevedibili bellissimi allora ci mettiamo a cervi in quel ruolo lì farese l'abbiamo preso per puntare l'uomo andare sul fondo e crossare perché ha grande gamba la grande gamba ok ma poi voglio un po più di qualità quindi farese dai io non ti voglio crocifiggere però svegliati perché un mese che giochi vorrei vedere una prestazione almeno da sei e mezzo comunque va benissimo così calma calma vediamo cosa succede stasera ma il girone può succedere ancora di tutto però un punto importantissimo ok ragazzi like al video commentate iscrivetevi al canale bella